Abbiamo avviato il tavolo di lavoro e stiamo lavorando in collaborazione con tanti paesi perché quello che non viene fuori è che l'Italia è il secondo paese per numero di bambini adotati dopo gli Stati Uniti e quindi l'Italia che è un paese più piccolo, molto più piccolo degli Stati Uniti è il secondo paese per numeri di bambini adotati. Questo lei come se lo spiega? Perché abbiamo un forte senso della famiglia o perché sta succedendo qualcosa alla natalità di questo paese? Perché sta succedendo qualcosa alla natalità, ecco perché dicevo, bisogna, sì però ci sono molti bambini che vengono adottati dall'estero e quindi insomma le difficoltà sono tante e credo che su questo punto bisognerebbe fare una lettura un po' generale di tutto sia da un punto di vista... Grazie. 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 Grazie.